se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla allora ragazzi finalmente è tornato il glitch degli rp semi massivo ragazzi faremo circa 5000 rp al minuto requisiti non ne servono a parte un amico che sta in un lavoro da titano in una sessione ad amici ragazzi in modo tale che ci potremmo unire dal menu di pausa delle volte il glitch si bugga e funziona a tratti ma saliremo velocemente di rp quindi ragazzi andiamo su amici e ci andiamo a unire da un amico ragazzi che sta in un lavoro da titano in una sessione ad amici perché se no non potremmo unirci quindi ragazzi una volta che abbiamo questo requisito e siamo in questa schermata vuoi davvero partecipare in questa lobby che sarebbe il lavoro da titano del nostro amico spammiamo freccia destra e nel frattempo clicchiamo una volta a o x se giocate da play nel frattempo saremo dentro la lobby del lavoro da titano quindi semplicemente andremo a quittare la lobby del titano e sbada bam ragazzi saliremo di 5000 rp quindi non ci resta altro che riandare raga dal peyote e rifare la stessa cosa quindi apro il menu di pausa vado su amici vado su mio amico che sta nel lavoro da titano mi unisco in questa schermata spammo freccia destra ragazzi clicco una volta mentre continuo a spammare freccia destra e quando sono nella lobby quitto e rinizio da capo e ci darà 5000 rp delle volte succede questo ragazzi che quando spawniamo non troviamo il peyote allora non vi preoccupate perché se cambiate sessione andate in una pubblica e poi tornate nella privata trovate di nuovo il peyote vi respawnerà di nuovo se no ragazzi chiudete il gioco riaprite il gioco il peyote vi respawnerà di nuovo perché per tutto il periodo di Halloween ragazzi avremo i peyote in lobby quindi se vi è piaciuto il video ragazzi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix condividete il video se vi è d'aiuto ragazzi e se trovate dei metodi migliori per farlo più velocemente contattatemi e lo faremo assieme e vi farò fare il video insieme a me bella raga alla prossima spada BAM